Matteo Pelucchi oggi terzo ad Antalya, considerando chi ti è arrivato davanti non puoi che essere contento? Sì certo, arrivare ai terzi dietro a due grandi campioni come Greipel e Goss è un onore ho fatto una bella volata, sento che la condizione sta crescendo giorno dopo giorno speriamo di poter fare ancora qualche bel risultato comunque sono già molto soddisfatto della prestazione di oggi, considerando soprattutto il livello dei partecipanti Cominci un po' a pensare alle volate del tour? Scusa? Cominci un po' a pensare alle volate del tour? Non lo so, dovremmo parlarne con la squadra, ma gli obiettivi per il tour della squadra sono altri io non mi tiro indietro se mi disse fatta la proposta, ma adesso penso sia ancora presto per me Congratulazioni